La nuova giunta sarà sostanzialmente la fotocopia della precedente e l'opposizione di centrodestra si scatena esprimendo un duro giudizio su questo mese ormai trascorso da Petrangeli a tentare di trovare una quadratura del cerchio che però già oggi non sembra niente di più che un difficile compromesso. Il parto è ancora prematuro credo, ma al di là della battuta credo che questa giunta e che questa amministrazione più che in crisi politica sia in crisi di identità. Un'identità che in realtà non ha mai trovato dall'inizio della consigliatura ad oggi e in questo mese che ancora di più c'è stato un immobilismo totale di questa amministrazione a maggior ragione di quello che è successo in questo primo anno di consigliatura e quindi che ha confermato la totale estranietà di questa amministrazione e i problemi veri della città credo che ci troviamo di fronte alla fotografia di quello che questa giunta è stata fin dall'inizio cioè una giunta incapace, non coesa, un'amministrazione che non riesce a dare risposta ai cittadini. Anche se, spiega il centrodestra, nonostante la crisi politica Petrangeli continua in quelle che Sebastiani definisce operazioni di palazzo. Per favorire gli amici degli amici. Non voglio riferirmi ad altro se non così a titolo meramente esemplificativo sui bandi che sono stati fatti sull'Alzheimer di Cantalice, su Rigliani di Creccio e sulla riflessione scolastica. Dunque l'opposizione ritiene conclusa l'esperienza Petrangeli ma il centrodestra nell'eventualità sarebbe pronto a rappresentare un'alternativa credibile? Io credo che il centrodestra sta lavorando al di là delle divisioni che pur nel centrodestra ci sono sta lavorando per trovare un candidato sindaco del centrodestra che non è poi secondo me cosa assai difficile.